Caro sindaco, mi chiamo Gabriele, vicino Villa Bruno c'è una villetta con due canistri, ma i ragazzi grandi non mi fanno mai giocare. Ecco qua il parco dove stiamo facendo i lavori e dove c'è spazio se potresti mettere un piccolo campo da basket. Caro Gabriele, prendo la tua richiesta, l'ho riportata ai nostri tecnici e ti annuncio che avremo il canistro. E per uno che ha giocato a basket quando era piccolo, da un metro e 96, ti posso dire che avremo un bellissimo parco, zone di sport, zona per i bambini, nuove giostre e perché no, il primo canistro lo facciamo insieme.